ciao a tutti e bentornati su un nuovo video di lantes hardware un video fantastico fantastico perché anche io posso recensire finalmente la rtx 3050 quindi la fascia mainstream di nvidia case fan è uno dei migliori citro a acquistare chiavi per office e windows tra l'altro con delle ottime offerte per office 2021 come possiamo andare a vedere possiamo acquistare office 2021 professional plus per un pc che costerebbe 96 euro con un codice sconto veramente ottimo che è vde 50 lo possiamo portare a casa a metà prezzo ragazzi a metà prezzo che è veramente in prezzo ottimo per un software originale in versione professional come vediamo è molto semplice inseriamo il codice premiamo apple attendiamo che viene attivato il codice promozionale quindi possiamo procedere al check out tranquillamente usando paypal o quello che ci pare inseriamo la valuta in euro per vedere il valore in euro del nostro acquisto nel caso il sito non abbia fatto automaticamente come vedete il prezzo è stato rimezzato di 45 euro e 97 procediamo col check out e come vedete possiamo tranquillamente pagare con paypal molto semplicemente ci arriverà una mail con tutto l'occorrente per attivare il nostro office vi consiglio questo sito se vi servono chiavi per sistemi microsoft perché è veramente ottimo e con un ottimo prezzo allora la premessa particolare non ho preso in esame molte schede video perché diciamo che sulle varie recensioni che c'erano vi era un lec fondamentale secondo me la presenza della gtx 1660 super che a mio parere è la concorrente diretta della vecchia generazione di questa scheda tralasciando le performance con rtx di cui la gtx 1660 super non è dotata ma per quanto riguarda le performance in gaming sicuramente è la scheda che bisogna prendere in esame per questa comparazione poiché la fascia di prezzo attualmente attualmente interno secondo il mercato attuale è simile di fatto la gtx 1660 si trova intorno alle 500 450 euro lo stesso prezzo della rtx 3050 e le performance sono simili vorrei un attimo su fermarmi su quelle che sono le caratteristiche tecniche delle due schede per andare a vedere alcune alcune differenze sostanziali allora come possiamo vedere la rtx 3050 8 gigabyte monta la cpu ga 106 che è la stessa gpu che viene montata sulla rtx 3060 12 gigabyte abbiamo comunque meno q da core abbiamo meno tmu meno rops ovviamente la memoria minore e un bus dati castrato da 192 a 128 bit questo ovviamente la rende meno performante se diamo un'occhiata alla 1660 super vediamo bene che i q da core sono minori ma a un numero maggiore di tmu e rops anche avendo 6 gigabyte gddr6 quindi 2 gigabyte di meno ma con un bus di 192 bit dovrebbe teoricamente riuscire ad avere delle performance molto simili ma ora la domanda che mi faccio io la domanda principale che mi faccio io è perché avendo meno core e comunque essendo di una generazione più vecchia la scheda si avvicina comunque in performance queste mi sembra come fare un passo indietro praticamente rispetto a quello che dovrebbe essere perché la storia dell'evoluzione delle gpu ci ha raccontato che a parità di q da core quindi stream processor q da core per ogni scheda per ogni marchio i core hanno un nome specifico a parità di unità logiche all'interno della gpu con una generazione più avanti si hanno delle performance migliori sembra che stiamo andando indietro a questo trend perché abbiamo più unità logica all'interno della gpu però andiamo uguale come performance questa è una cosa che mi fa storgere un po il naso intanto facciamo l'unboxing di questa scheda vediamo cosa ci offre la confezione per l'esattezza abbiamo una zotac gaming rtx 3050 twin edge oc quindi è una scheda leggermente overclockata di serie la confronteremo con rtx 3060 e con la gtx 1660 super che secondo me sono le schede le uniche schede con cui questa scheda va confrontata se guardiamo md andrebbe confrontata con l'rx 6006 che comunque non ho quindi non posso fare un raffronto diretto come sempre l'esemplare in possesso ragazzi io per questa review l'ho comprato quindi non mi ha passato niente nessuno giusto per dirlo perché magari dicono ai youtuber mandano questo e quello ma anche per il cavolo allora all'interno della confezione vediamo cosa troviamo troviamo questa simpatica bustina dove praticamente abbiamo il manuale un adesivo zotac ed ecco la scheda che praticamente riprende il design delle 30 70 twin edge 30 60 però è più stretta quindi è meno profonda ha sempre una configurazione a due ventole e comunque rispetto al pcb il dissipatore è decisamente generoso ora andremo a vedere poi all'interno ma sono abbastanza sicuro che questo modello dovrebbe dissipare perfettamente il calore la parte posteriore con il backplate che a quanto pare dalle feritoie non sembra fare contatto sul pcb della scheda la scheda prende l'alimentazione da un singolo connettore 8 pin che vedete lì sopra praticamente la lunghezza è poco più di metà di quella del del dissipatore andiamo a vedere l'interno della zotac rtx 3050 twin edge oc i chipset di memoria se non vado errato cron e sono moduli da due gigabyte stranamente la scheda spazio per altri quattro moduli forse perché il design della 30 60 forse quindi sarebbero 1 2 3 4 5 6 7 8 moduli forse 8 moduli da 8 gigabyte poiché il pcb potrebbe essere anche lo stesso della 30 60 ti non sono sicuro allora come fasi abbiamo numero una due tre quattro fasi con relativi shock se vediamo che ci sono altre quattro fasi libere quattro porti per le fasi liberi e relativi shock lo stesso vale per degli spazi per i condensatori e ecco sembrerebbe un pcb fatto per una scheda decisamente più performante sono comandati da un chip dr mosco l'induttore r15 e il produttore della semiconductor l'uscita di corrente può raggiungere 50 ampere totali che sono oltremodo sufficienti per alimentare questa scheda quindi per quanto riguarda l'alimentazione sicuramente è oltremodo sufficiente come era immaginabile il backplate non è raffreddato non vi sono posti per le memorie vediamo tre super condensatori sulla parte posteriore e il componente di switching del controller a parte resistenza e l'altro non ci sono altri componenti componenti l'alimentazione è garantita da un connettore 8 pin per quanto riguarda poi la possibilità di salvezza della scheda abbiamo delle resistenze da zero ohm dovrebbe esserci anche qualche fusibile da qualche parte uno è qua diciamo che è una scheda abbastanza scarna è decisamente simile alla 1660 super mini e assomiglia veramente tanto devo dire per ciò che riguarda il sistema di dissipazione abbiamo il connettore delle fan con due ventole il connettore dei rgb e il plate che va a raffreddare sia la gpu che le ram c'è anche ovviamente il raffreddamento per i vrm non viene raffreddato altro anche perché comunque monta delle memorie gddr6 oltre ai due vrm che sono qua che gestiscono probabilmente l'alimentazione delle ram e quelli della gpu non c'è nient'altro è un dissipatore abbastanza semplice come dicevo munito di doppia ventola quindi niente da dire riguardo alla dissipazione che comunque è altresì generosa per una scheda così piccola e con così poca richiesta di corrente quindi sicuramente sono abbastanza sicuro di vedere dei risultati ottimi per quanto riguarda le temperature collegata la rtx 3050 allora leggiamo che la gpu è il ga 106 lhr quindi la stessa gpu che montava la 30 60 come abbiamo detto 13 mila 250 milioni di transistor il partner come abbiamo visto è zotac 2560 shader scuda core da reticitorici ultimate le memorie ci conferma cpuzeta che sono le micron vediamo che comunque il cpu core è lo stesso di default ma aumenta leggermente in boost per quanto riguarda le temperature quello che dicevo prima era abbastanza sensato perché adesso abbiamo uno zero fan quindi le ventole ferme e 30 gradi sulla temperatura del core che è veramente poco in effetti con le ventole bloccate ma detto questo direi di cominciare a vedere come si comporta questa scheda rispetto alle altre due concorrenti alla gara quindi parliamo di 30 60 e 16 60 super partiamo con uno dei test sintetici più significativi degli ultimi anni che è 3d mark time spy quindi 1440p direct x 12 la scheda tiene i 45 frame a secondo sul primo test e come possiamo andare a vedere facciamo un punteggio che è di 300 punti maggiore della gtx 1660 super 6 gigabyte quindi 6534 contro 6.234 la rtx 30 60 12 gigabyte si porta ben al di sopra con un 33 per cento in più rispetto alla rtx 30 50 8 gigabyte che in pratica sembra una 1660 super con il ray tracing praticamente potremmo avere un risultato molto simile a quello che è una gtx 1660 ti custom quindi una custom spinta sicuramente avrebbe le stesse performance abbiamo in più ovviamente gli 8 gigabyte e il ray tracing che poi vedremo alla fine di questi test quanto va ad impattare sulle performance e se è veramente possibile usarlo con una scheda che ha delle performance come questa ovviamente ho preso in esame il graphic score che è quello che ci importa perché alla fine il il test principale tiene conto anche del processore ma a noi non serve ora quindi andremo a vedere come vediamo quello che ci dice il graphic score della scheda 3d mark fire strike quindi da rtx 11 1080p andiamo a vedere che comunque teniamo i 90 80 frame per secondo ma in questo test praticamente andiamo a perdere anche rispetto alla 1660 super 6 gigabyte che archivia praticamente 300 punti più delle rtx 30 50 questo succede spesso perché comunque questo test privilegio le schede un po più datate e l'ho visto diverse volte 30 60 che ovviamente ancora una volta va quasi un 30 35 per cento in più andiamo a vedere sempre che prendiamo in considerazione il punteggio graphic score ovviamente comunque è un punteggio che è quello di una 1060 super anche meno in questo caso continuiamo con il terzo di uno dei più famosi benchmark sintetici un già in superposition profilo 1080p extreme allora qui vediamo che in effetti la 30 58 gigabyte benché in the rtx 11 prende un vantaggio di circa 10 9 per cento rispetto alla 1660 super vediamo sempre un vantaggio nell'ordine del 40 per cento per l'artx 30 60 12 gigabyte che anche in questo benchmark sintetico mostra prevalentemente la sua superiorità anche in maniera abbastanza marcata per quanto riguarda le due schede comunque non sono 400 punti quelli che ci possano far gridare al miracolo perché abbiamo di fronte una scheda che fino ad ora per quanto abbiamo visto i benchmark sintetici qua va un po più qua va un po meno dovremo poi vedere sui giochi perché spesso è il discorso cambia e non di poco come sempre il risultato è quello mostrato nel test 3711 e beh non so se c'è altro da dire anche qui comunque vediamo che le temperature sono ottime 62 gradi massimo quindi si riporta quello che ho detto prima riguardo la dissipazione la gitan devil 2 remake anche questo titolo altamente giocabile con un'oscillazione fra 130 140 frame per secondo vediamo che i consumi sono nell'ordine dei 120 watt quindi neanche tanto le temperature sono decisamente basse andiamo a vedere la slide per vedere le performance rispetto alle altre due schede allora sta comparendo possiamo già andare a vedere come la grande differenza che vi era sui benchmark sintetici fra le due schede 1060 super e rtx 3050 sia nettamente minore rispetto alla 3060 in game dove abbiamo un average frame di 122 per la rtx 3050 114 per la 1660 super e 139 per la rtx 3060 che non fa gridare al miracolo ma ci dà semplicemente un 10% di performance in più ma passiamo a good of war un titolo decisamente recente importato direttamente la playstation 4 sempre con dettagli ultra 1080p vediamo che qui riusciamo in direct x11 a mantenere un frame rate di 55 frame per secondo circa con i dettagli massimi tutto impostato su ultra basta dando un'occhiata alla slide vediamo che praticamente in questa situazione quindi in questo gioco la 3060 prende un po' più di vantaggio posizionandoci quasi al 40% in più soprattutto sul frame rate massimo per quanto riguarda l'avereggi frame rate abbiamo 47 frame per la 3050 8 gigabyte 44 frame per la 1660 super e 55 per la 3060 che sull'avereggi frame si piazza a circa il 10% in più e comunque questo trend più o meno si vede su tutte le misurazioni effettuate tranne che sul max frame rate dove la 3060 ha una piccola marcia in più la funzione di benchmark integrato di tombraider è utilissima andiamo a vedere che teniamo comunque un buon frame rate in direct x11 intorno ai 90 frame per secondo ecco qua la slide quindi 1080p dettagli ultra tutto al massimo e vediamo che i risultati della 3050 e della 1660 super sono veramente pressoché identici abbiamo uno scarto di 2 frame per secondo average mezzo frame sul picco massimo 4 frame sull'1% low, 3 frame sullo 0% low e il frame rate minimo cambia a 1,8 frame per secondo contro un aumento di performance di circa il 10% forse anche meno per la 3060 che anche qui ci fa vedere quanto non sia veramente un buon acquisto per il gaming soprattutto al prezzo alla quale viene offerta oggi che praticamente costa 800 euro anche in questo caso la scheda si comporta esattamente come una 1660 penso che 2 frame sull'average e 4 frame sul minimo su 40 siano veramente nulla anzi che sto dicendo un frame su 40 è praticamente meno del 5% quindi assolutamente discutibile come salto prestazionale il gaming test finale lo faremo con il pesantissimo e discutissimo Cyberpunk 2077 dettagli ultra 1080p ray tracing off DLSS su auto vediamo che manteniamo una media di 40 e 50 frame per secondo più o meno i frame rate sono quelli allora possiamo vedere che abbiamo 54 frame per la 3060 average 47,9 per la 3050 8 gigabyte e 44,8 per la 1660 super ora vediamo che ci sono mediamente un 58% di differenza fra la 1660 super e la 3050 addirittura sull'1% low la 3060 ha perso vantaggio ma quello probabilmente per magari dei piccoli momenti di freeze e cose varie non penso sia contabile comunque in tutti i casi la differenza fra la 3050 e la 3070 è molto maggiore di quella fra la 3050 e la 1660 super che anche in questo caso non ci dà un sostanziale motivo per fare l'upgrade dall'uno all'altro perché ci troviamo davanti ad una versione praticamente pompata dei 1660 super con ray tracing ma la cosa interessante adesso è andare a vedere cosa succede quando andiamo ad attivare il ray tracing con la 3050 bisogna anche vedere disabilitando e abilitando il DLSS quindi metteremo il ray tracing su ultra cosa principale e andremo a vedere come sono le performance a questo punto ovviamente DLSS lo disattiviamo quindi no e andiamo a vedere quanto facciamo vediamo che il frame rate si è decisamente abbassato dai 45 47 ai 27 26 28 frame a secondo che ovviamente è una buona perdita una perdita nell'ordine del 30 40 per cento di performance che ci fa capire quanto sia inutile su questa scheda il ray tracing perché praticamente va a impattare più che sulla 2060 liscia il che rende i giochi non dico ingiocabili perché con 30 frame siamo a livelli della playstation 4 ma vediamo però con il DLSS attivo impostato su auto se magari la situazione va a migliorare un pochino perché solitamente il DLSS in ray tracing aiuta molto quindi andiamo a vedere come sono le performance e in effetti ci riavviciniamo a quelli che erano i frame per secondo che avevamo senza ray tracing in questo caso quindi a questo punto direi di andare un attimo a vedere la panoramica delle performance e andiamo a vedere come in tutti i casi utilizzando il ray tracing senza il DLSS le performance cadano di una buona percentuale che quasi dimezza le performance mentre con il DLSS andiamo a perdere 2-3 frame e comunque la grafica resta di buon livello questo ci permette comunque di usare questa scheda con il ray tracing senza perdere troppe performance qui invece andiamo a vedere la perdita in percentuale di performance che con il DLSS off è del 40% mentre con il DLSS su auto praticamente di un solo 5% questo ci permette di attivare il ray tracing magari con alcuni dettagli in meno e tenere anche i 60 frame al secondo ma tanto ragazzi io sono sicuro che c'è un'altra domanda come va sta facenda in mining perché sono sicuro e voi ve lo starete chiedendo conviene comprare affarino per fa mining se posso fai soldini ma manco per dispiace andiamo a vedere su Ethereum quanti mega s fa sta facenda in mining questa potentissima scheda eroga 13,97 mega hash con 68 watt il che la rende praticamente inutile su Ethereum probabilmente su tonne andrebbe molto meglio ma per quanto riguarda Ethereum meglio lasciar perdere allora abbiamo visto come va questa scheda sui benchmark sintetici abbiamo visto come va questa scheda in game su diversi titoli e anche in retrace l'abbiamo confrontata con la RTX 3060 e la GTX 1660 Super che cosa dire? allora è una scheda che va più o meno come una 1660 Super va un po' di più mediamente nell'ordine del 5% possiamo andare qui a vedere la media delle performance fusi test fatti e possiamo vedere che mettendo la RTX 3050 come 100% abbiamo un 95% di performance per la GTX 1660 Super mentre abbiamo un 127% di performance per la 3060 quindi 27% in più per la 3060 rispetto alla RTX 3050 mentre se usassimo una 1060 Super al posto della 3050 perderemo un 5% ovviamente questa è una perdita che non ci fa pensare di comprare un RTX 3050 se abbiamo una 1660 Super o se abbiamo una GTX 980 Ti dai, già comprando un RX 560 Ti gli siamo sopra già comprando una RTX 2060 liscia gli siamo sopra con un RX 590 siamo un po' sotto perché va un po' meno della 1060 Super siamo come la liscia ma non converrebbe comunque comprarla anche in quel caso perché l'aumento di performance sarebbe misero forse del 10-15% sborsando i 500€ che vale ora fosse costata i 250€ di MSRP farebbe stato meglio ora nulla da togliere al fatto che Nvidia abbia fatto il lavoro in confronto ad AMD con la 6500 XT superbo ma solo se lo guardiamo in confronto alla soluzione mainstream di AMD perché se comunque lo guardiamo con una visuale del discorso una 50 dovrebbe andare quanto? una 60 della vecchia generazione qui anche Nvidia ci ha perso un bel po' perché alla 2060 liscia manco ci avviciniamo da lontano manco da lontano fate conto che la 1060 Super è una 2060 castrata senza il retracing e andiamo quanto quella quindi non ci siamo in questo frangente la scheda va bene si permette di giocare in Full HD con dettagli massimi a tutti i giochi stando intorno ai 50-60 frame senza attivare il retracing attivando il retracing se sacrifichiamo qualche dettaglio e attiviamo il DLSS possiamo giocare 1080p a quasi 60 frame manca Cyberpunk il che non è male perché non è male oggi come oggi è male perché dovremmo spendere 500 euro per farlo quando avremmo dovuto spenderne 250 le mie impressioni come custom sono state buone perché la Zotac Twin Edge OC è una scheda che raffredda bene che ha un BOST molto alto perché arriva a 2 GHz in BOST rispetto ai 1.800 qualcosa descritti quindi sicuramente avrà quel 2-3% in più rispetto alla reference è una scheda che ho pagato 420 euro che sarà difficile ritrovarla a questo prezzo che è comunque tanto ma è meno dei 500 euro a cui si trova in giro è una scheda però che non va come dovrebbe perché sarebbe dovuta andare come una 20-60 invece va come una 1.660 Super è una scheda che per quello che offre costa tanto perché anche guardando il prezzo MSRP con 250 euro ci compravi una 1.660 Super che costava sui 230 240 euro quindi questa sarebbe dovuta costare di meno 200 euro 200 dollari lasciamo perdere che ne costa 500 sappiamo come è il mercato in mining fa pietà quindi non ha senso spendere questi soldi per questa scheda in mining meglio spenderli per comprare una 580 un RX 580 un RX 480 un RX 570 che vanno più e costano meno detto questo direi che non c'è molto altro da dire vi consiglio questa scheda non lo so dipende da che scheda venite indubbiamente se la trovate a un buon prezzo sotto i 400 euro se venite da una RX 570 massimo da una 580 ve la potrei anche consigliare per fare in piccola qui grade se già mi venite da una 1650 Super o da una 1660 liscia vi dico no aspettate che trovate di meglio perché l'aumento di performance sicuramente sarà minimo e non conviene spenderci quei soldi se venite da una 1660 Super vi dico avete la stessa scheda vi manca il ray tracing se proprio non potete fare a meno nella vostra vita del ray tracing almeno cercate qualcosa di più performante detto questo spero di aver fatto una recensione da voi gradita che abbia avuto quello che serve non perdetevi anche il video che oggi esce di Gianmarco fra l'altro di Saddi perché anche quello è molto interessante ci vediamo alla prossima con Dante Sardro e mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi di lasciare like di condividere di accendere la campanellina e di iscrivervi ai miei social Facebook Instagram TikTok e al mio canale offerte su Telegram Dante Sofferte e al canale Telegram e alla prossima ciao a tutti da Dante Sardro ciao ciao ciao